Esordio in Coppa Italia ma con vista campionato, il Teramo Albonolis troverà un Monterosi neopromosso che certamente non vorrà sfigurare. Il diavolo con un Bernadotto in più davanti ha bisogno, con un successo, di dare sostanza ad un precampionato che ha visto una sola amichevole e una partenza in ritardo. Guidi ha lavorato sui concetti di gioco che restituiscano una squadra aggressiva ma, e lo ha messo anche in conferenza pre-gara, attende ancora gli elementi che servono a completare l'organico. Mancano gli esterni di difesa, almeno i ricambi, e quelli in mancini d'attacco, più un centrocampista. Noi non dobbiamo prendere tanto per prendere, noi dobbiamo prendere calciatori che siano funzionali ai principi di gioco e soprattutto che siano funzionali e che possano aiutare il Teramo a vincere le partite. Ho già detto che abbiamo delle posizioni scoperte, questo è inutile che lo stia a ribadire, a sottolineare, perché basta che prendiate la rosa del Teramo e capirete che ci sono dei ruoli completamente scoperti o ci sono dei calciatori che non hanno antagonismo durante la settimana perché ad oggi non ci sono le famose coppie. Quindi qualcosa mi aspetto, mi aspetto sicuramente, fermo restando che coloro che sono arrivati sono ragazzi, i più giovani sono ragazzi di potenzialità che secondo me possono far bene e gli over che sono arrivati sono giocatori che secondo me possono alzare il livello qualitativo della squadra oltre a quello dell'esperienza. Per questo anche due elementi del settore giovanile sono stati promossi in prima squadra. Per quanto riguarda Surricchio, Surricchio rimarrà in prima squadra, ma non perché io glielo sto regalando, ma perché secondo me è un ragazzo che ha prospettive, è un ragazzo che ha qualità, chiaramente deve maturare fisicamente, deve fare esperienza. Anche Furlan rimarrà in prima squadra perché è un giocatore che è migliorato, mi è piaciuto e soprattutto ogni giorno che passava ha messo dentro qualcosa, mi ha fatto, cioè si è guadagnato la prima squadra, quindi anche Furlan rimarrà con me. L'entella incombe tra una settimana la prima di campionato a Chiavari che riveste un ruolo decisamente diverso dalla partita di questo pomeriggio e nella quale si dovrebbe rivedere la formazione iniziale che ha sfidato il Castelnuovo. Penso che la squadra per lunghi tratti riuscirà a tenere anche delle intensità, perlomeno io mi aspetto questo, poi posso essere smentito dall'unico giudice che è il campo, però mi aspetto che i ragazzi lo approcciano con grande intensità, con grande furore, andando alla ricerca di velocità che stanno cercando di mantenere durante gli allenamenti. Però poi la tenuta è un grandissimo punto interrogativo perché è fisiologico che non riusciremo a tenerla per tutta la durata della partita perché sarebbe impensabile. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico-tattico, io vorrei vedere una squadra molto dinamica sul campo che a seconda di come gli avversari ci verranno a prendere riuscirà a leggere le situazioni e a far uscire una palla pulita dalla prima costruzione e dalla prima pressione avversaria per andare a attaccare con grande qualità e con quanti più uomini possibili. Grazie.